ehi amici e bentornati nel vlog del comico k3 per un nuovo video e oggi facciamo la recensione dell'ecostudio double ecostudio no allora caro k3 fatte che non mi hai fatto dire miau miau allora sostanzialmente il comico è pazzo innanzitutto perché siamo così lontani uno per mantenere il metro del comico e poi l'altro perché così davvero vi facciamo vedere come abbiamo disposto i due pc per farvi rendere un po' di più allora sostanzialmente le mie ricerche vi hanno portato abbiamo comprato due costudio per provare l'on theater di amazon ok il titolo sarà o un theater di amazon a soli e a soli se prendete scontate scontato non dico il prezzo a soli 460 e 459 euro ok per fare un theater abbiamo bisogno di due ecostudio ok quindi uno a destra e uno a sinistra ovviamente e poi abbiamo bisogno della file stick in 4k perché cos'è la file stick? la file stick praticamente è una chiaretta che ti permette se non hai una tv smart di far diventare la tua tv smart è un hub che richiede tutte le applicazioni in streaming ok quindi per la volta sommati questa in 4k costa 59 euro io mi sono pagato 39 euro ok senza 4 euro comodo che hanno anche un telecomando quindi abbiamo un telecomando piccolino per gestire il tutto la cosa che mi ha incuriosito ok tra l'altro non solo sono le casse che stringono quindi non avete bisogno di un filo per collegare quella e questa è la chiavetta che stringa il suono ok dalle due casse che li collega a qualche cavi esatto cioè prendete la chiavetta prendete le due casse senza cavi senza cavi avete solo il cavo della limitazione delle casse il positivo è che non ha cavi il negativo è che dovete comunque scaricare l'applicazione Alexa e fare una sorta di procedura per la configurazione ma è molto semplice basta mettere cliccare più e fare aggiungi home key up dirvi come ricerca le casse ok ve le trova ve le abbina e gioco vi fa scegliere a destra o sinistra la cosa però interessante è proprio il codre caudio di queste casse che è Dolby Atmos ok i Dolby Atmos praticamente ha un suono superiore che dovrebbe avere una spazialità maggiore del Dolby classico ok e non tutti gli impianti hanno la funzione Dolby Atmos tipo il Bose non ha la funzione Dolby Atmos cosa significa che se io ho la tv che mi prende il suono Dolby Atmos però non ho la barra che mi proietta il suono anche se ho la tv che ha il codere Dolby Atmos non mi esce Dolby Atmos ok mentre con queste casse c'è la persona mia e quindi mi ha anche usito questa cosa e allora va bene proviamo queste casse quindi cosa ho fatto? Abbiamo provato le casse, le abbiamo trattate e adesso siamo qua a recensire per voi ok quindi adesso faremo la recensione e prima di partire a fare la recensione caro Kappa iscrivetevi al canale su Instagram mi compito Kappa3 allora Kappa3 mettete un mi piace se vi è piaciuto il video andiamo avanti e andiamo avanti prima di startare il video dico un'altra cosa una cosa negativa di questo streaming lo streaming sostanzialmente prende tutto quello che esce dalla Fire Stick cosa vuol dire? vuol dire che se voi vedete la tv in casa ok l'audio non esce dalle due casse l'audio esce dalla tv ok quindi questa è una cosa negativa però abbiamo scoperto tra virgolette che attaccando i baghetti i baghetti si può aggirare sta roba attaccando sostanzialmente mettete del jack 3.5 standard perché loro lo faccio vedere la telecamera ok lo faccio vedere lo faccio vedere qua dietro hanno un jack 3.5 ok che è anche un'uscita per l'optical con l'adattatore ok però se voi lo attaccate con l'optical perdete una cassa perché l'optical esce solo in una cassa allora poi cosa fate? se avete l'entrata del jack 3.5 perché tante tv adesso non c'erano più però poi vi dirò se fate i bravi vi dirò un tucchettino anche qui sostanzialmente vedi uno split che attaccate dietro alla tv dove lo split lo split è per farlo perché magari è praticamente è l'entrata metto un'immagine cioè si uno split per me lo faccio un'entrata singola jack 3.5 esatto ed uscite con due femmine con due femmine esatto collegati in 2d jack uno dalla parola l'altro lo mettete nella femmina e femmina e gioca e fa attaccate l'out dello split al televisore e gioca e fa quindi tutto quello che poi passa dal tv quindi la tv se avete delle applicazioni già su vi escono anche da queste casse qua perché alla fine loro praticamente bypassano il sistema di Amazon cioè il sistema che vi propone Amazon e vi interviamo quello del televisore quando andrete a vedere invece usare la first tip c'è dietro ok se volete comprarla perché con quel metodo che vi abbiamo detto a noi potete anche non comprare la first tip ok però dovete avere un codec Dolby Atmos dentro nel tv e non tutti ti dicevano se non avete il Dolby Atmos prendete la first tip quando vedete la tv normale comunque la sentite in stia e nel senso non bene avranno di più poi andate usare la chiaretta suono uscirà in dormi allora adesso andiamo perché magari si sono un attimo persi allora ragazzi praticamente cosa stiamo dicendo noi abbiamo il comico ha provato molte applicazioni youtube il prime apple music anche la musica prime video eccetera di netflix ne ha provato tanti e ha notato che soltanto con le applicazioni di amazon il suono è molto alto è molto più alto si sente meglio cioè non è che si sente meglio si sente più alto stiamo un attimo sull'ambiente antia faccio un esempio così classico ok se voi vedete un film di amazon prime il suono è molto più alto che vedere un video in youtube o un video in netflix questo è notato loro ti dicono questo tu vuoi vedere film con il suono al massimo devi usare amazon punto loro ti dicono cioè sotto le righe è così è così però noi vi abbiamo messo questa possibile soluzione è di attaccare i jack e di utilizzare queste intratte questi tradialogs per evitare questo problema per bypassare questo sistema che alla fine non è male perché così avrete il vostro suono sempre al massimo con tutte le applicazioni anche vedendo la fin ma non è che siete obbligati logicamente qui spingiamo il suono al massimo amazon invece come sono tarati queste le orette comunque un suono comunque che non uscirete ne ero anche se non c'è al massimo ma io adesso perché abbiamo fatto le varie prove abbiamo solo constatato questa cosa perché è giusto dire anche i banchici che ci sono dietro perché il prodotto è valido però è amazon ha fatto un buon affetto però ci sono delle restrizioni ok quindi detto questo caro K andiamo a fare una breve recensione anzi tentiamo di farvi sentire il suono sono fatto un'altra cosa e poi proprio facciamo sentire tutto per rinformarvi poi sicuramente vi facciamo sentire tutto però per rinformarvi e anche la cosa comoda è questa che questi non sono bluetooth no come non potete collegare il cellulare però se avete un jack potete ascoltare la musica tramite il camera però se si sente certamente il camera del jack cambia totalmente perché le orette spingere fino a 350 watt e poi sono ok ok ragazzi adesso vi faremo sentire un dolmi atmos demo che prendiamo da youtube quindi adesso vi comincete già a sentire a sentire la differenza di come si sente youtube e poi di amazon parto questo è il dolmi cinema è l'unico la più avanzata tecnica che hai avuto che hai avuto in questo questo è il dolmi atmos il numero di O che il suolo è il nostro corso il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Ok ragazzi, torniamo un attimino, passiamo qua. Adesso vi aveva fatto sentire un pezzettino di Dory Atmos che è preso su YouTube perché purtroppo se mettiamo dei film qua tutto copyright. A parte che sicuramente anche questo video qui c'è un dettaglio copiato, però noi ve lo facciamo comunque sentire, a noi non è che ci interessa. A noi basta che informiamo la gente. Noi non è che ci guadagniamo, ci guadagniamo un caso, quindi l'importante è informare. Ok, comunque fidatemi, fidatemi. Allora, io vi dico, il suono è molto valido, nel senso che la voce è nitida, i suoni sono nitidi, non è niente di impastato, è tutto perfetto. E i bassi quando entrano si sentono e non coprono gli altri, non copre l'altro. Cioè, è come avere più casse, ecco, è come avere tante casse a giro che nessuno sovrasta l'una all'altra. Cioè, hanno fatto un buon lavoro su questo, su questi prodotti qua. E secondo me, chiaramente, per chi non ha un prodotto superiore, potrebbe essere le casse che fanno, senza che volete spendere tantissimo, al caso vostro, esatto. Veramente, veramente, l'audio è veramente naturale, mi ha sorpreso e ho visto una cosa che, se posso, è che, ti diremmo in un altro, in un prossimo video, magari, paragoneremo anche il Bose, la gente, 300 euro, un prodotto a 200 euro, 400 euro, che io ho notato tanto, quando si dice il temporale, nel vecchio video, quando abbiamo fatto vedere il Bose, c'era un pezzo quel temporale, si nota tantissimo la differenza di come con Bose abbiamo un basso, la salutare delle casse, e proprio ti spaziano con le due suoni, te lo dividono, cioè, ti fanno proprio molto, e, invece, due casse che, comunque, cercano di allargare la spazialità, ma non riescono, ma non riescono a farlo, chiaramente, con due casse dietro, cioè, perché, comunque, le casse fisiche sono diverse. Anche il basso, comunque, fa molto, eh? Il basso aggiuntivo della Bose fa molto, fa molto, fa molto, fa molto. Facciamo sentire a Amazon Prime, un video, per vedere se si riesce a sentire l'amore. E, John Wick, che sono, John Wick, sì. John Wick, bello, molto bello, come film, a me, adesso, li ho visti tutti, veramente belli. Allora, come potete avere sentito, tra virgolette, ma fidatevi noi, il suono in Amazon Prime è molto più alto. Ma, molto, ragazzi, è molto. E, come avete potuto sentire, il suono è pulito, sentono proprio le lame che entrano, timer, tutti i vetri, i cristalli, è impressionante, è impressionante. Adesso, vi facciamo vedere una prova, ok, per la storia dell'audio, lo stesso video preso da Amazon Prime, e lo stesso video preso da Netflix, cioè, lo stesso film, un pezzettino, ovviamente, per farvi vedere come cambia la, non la qualità, ma il massimo volume, il suono, sì. Ragazzi, riproduciamo, in questo momento, Fast & Furious 7, l'inizio. Sua Amazon Prime Sua Amazon Prime Sua Amazon Prime Si dice che se vuoi intravedere il futuro, devi guardare dietro di te. Un tempo credevo che fosse una palla, ma ora mi rendo conto che non si può sfuggire al passato. Ok ragazzi, adesso stessa scena su Netflix, così vi facciamo capire di cosa parliamo, del suono, perché uno che dice che sono uguali è perché ha il cellule nell'orecchia, è un po' che non se ne lava, ma credo che tutti siano nello stesso parere. C'è ragazzi, è una cosa. Scandaloso. Si dice che se vuoi intravedere il futuro, devi guardare dietro. Non è vero, non è vero, provare per credere è quello che dico sempre io, bisogna provare le cose per credere. Questa è la prova pratica che questi ecostudio sono dati per andare bene al massimo volume con le applicazioni di lavoro. Cioè, non c'è un calore. Chiaramente se l'attaccata a TV direttamente con gente, si tocca e forse cosa sono fatta. Anzi, se non è sentita anche un po' più alto. Sicuramente. Esatto, esatto. Cioè, una cosa che mi ha storto parecchio il naso e secondo me Amazon dovrebbe aggiornare perché è assurda come cosa. TV 4K, ok? Dolby Vision, quindi è completo questa TV sotto l'aspetto dell'immagine. File Stick 4K, non riconosce la TV che è un 4K e mi fa vedere i video in full HD. Se voi andate su YouTube, già vedete qua che tutta quella preimmagine lì è un po' finigranata e mi fa già i coglioni, ok? Se io vado su un'immagine in 4K, questa qua. Questa è un filmato girato in 4K, ok? Sì, io vado qua. Su Impostazioni. Su Impostazioni. Allora. E la faccio solo. 1080p, automatica, 1080p, dovrebbe esserci scritta automaticamente. Se volete vi faccio vedere che... Vai sul telefisore adesso. Che vado sul telefisore. Prendo questa, anche se il cine oscurerà comunque, fa niente. Non è lo stesso, ma vi faccio vedere la differenza tutto qua. Allora. Sì, io vado qua, ho sempre impostazioni. Guardate qua cosa esce, già la qualità 4K. 4K. Vedete? Eccola qua. 260p, che già è 2.260p e 4K, sì. Da quello. Invece prima non uscì. No. Che sostanza? Dica. 460 euro. Ok. Valgono o non valgono? Allora, togliendo un attimino la Fire Stick che mi ha storto un po' il naso e non le spenderei, sia un TV Smart, come il mio. Io parlo del mio, non parlo di quelli basilari. Ricordiamo che questo impiantino qui si può fare solo con quella 4K con il Fire Stick. in streamare, sì. Streamare, sì. Streamare, sì. Quindi dovete spegnere lì per forza questa cifra qui per mano, credo di accostarla per forza. Quindi, restando un attimo con il nado storto della Fire Stick, se dovessi scegliere tra il Bose, solo barra e queste due casse qua, probabilmente sceglierei le due casse. Non so se prenderei neanche la Fire Stick, ti dico la verità. Perché preferisco avere le applicazioni che mi si vedono in 4K, cioè la TV. Poi lo vero. E il tempo l'aula, tanto anche questo non è il Dolby Atmos, scusate. Però l'audio è migliore, complessivamente col basso parlo. Però aveva messo il Dolby Atmos. Però non aveva il Dolby Atmos, perché la mia TV purtroppo è quella ancora che non aveva il Dolby Atmos. Quindi niente, tu al posto delle cose preferresti per me lo scegliere. Sì, si deve andare. E tra le nostre conclusioni, io per averlo sentito, provato così, dico che è inaccettabile il fatto che con le applicazioni di terze parti non si possa sentire la musica piena. E' inaccettabile. Però alla fine sono valide. Sono molto valide. Quindi vi abbiamo portato una novità, una novità italiana. E speriamo vi possa, cioè è stato interessante. E vi porto sempre come inizio il video, iscrivetevi al canale, sentiteci su il Comico Kavadre Instagram e Lore Kavadre Instagram. Poi se volete fare domande, fatele qua sotto. Questo che noi, come potete vedere, vi rispondiamo sempre. E quindi al prossimo vlog del Comico Kavadre. Ciao, ciao amici.